La normalità, ieri per caso, l'ho approfondita. Il generale vuole asciugarsi. E che cosa ho scoperto? Che le minoranze ci attaccano. I gay, femministe, africani, la squadra del Cagliari è invasa di gay. Ma dove è la festa? Gay ovunque, nelle pubblicità, alla televisione, in discoteca, la televisione è subito là. Perché? Prenda quella in fingarda di Rai 1. E? Fingiti essere normale, invece... Cosa? E' un gay pride. Ma no, c'è qualche contattore. Quando vivevo a Parigi, facevo finta di inciampare il metropolitano, facevo, oh mi scusi, per appoggiare la mia mano a quella dei neri. Eh? Per capire se la loro pelle, color nero, fosse come la nostra e non lo era. Ma sì, è solo colore. No, era strana. Ma no... Subito dopo, cosa facevo per confermare questa tesi del non essere normale? Eh, cosa faceva? Mi fermavo nei bagni pubblici e spiavo i neri mentre urinava. No, generale, guardi che non sta bene. Cosa faccio? Sì, vabbè, adesso abbiamo... E vedevo che quando finivano ci mettevano dai 5 ai 10 minuti per rimetterlo dentro. E vabbè, sono un po' più... Alcuni usavano il vericello elettrico per il troppo peso. Questa se l'invento... Sì, no, non è vero. Era evidente che non erano normali. Vabbè, ma è un'altra cosa. Si tengo a precisare che io ho solo scandagliato i meandri della normalità. No, faceva golone. E la normalità per me va dai 9 ai 12 centimetri. Vabbè, se si... Se non fa freddo. Se non fa freddo, sì, vabbè, ma non approfondiamo. Perché se fa freddo... Cosa? Una volta faceva così freddo che sono arrivato a 6 centimetri e mezzo. Vabbè, ma non ci interessa, generale, vado avanti. Ma tornando alla televisione, a scandagliare la normalità, quando giri c'è Malgioglio. C'è Malgioglio. Cambi canale c'è Malgioglio. Sì, non sempre. Finalmente Cambi canale c'è la finale dei 100 metri. Beh, è bello lo sport. Dove sono tutti neri. Ma non sono tutti neri. Sono tutti neri, sia maschi che le lesbiche, nere. Ma non faccia la distinzione maschi e lesbiche perché... E scandagliando la normalità ho scoperto che riescono ad arrivare ad una velocità di 50 chilometri orari. Sono atleti. Che è normale se sei una Vespa 125. No, se sei un atleta anche. Per esempio, Jacobs. Jacobs. Che ha vinto le Olimpiadi come italiano. Sì. Italiano. Italiano, certo. Ma non è normale. Ma sì. Perché la sua pelle è besh. E quindi? Che va bene se sei un cocker italiano. No, generale. Ma non un italiano che corre. Mamma mia. Io, Paola e Gono, la prenderei come figlia. Bravo. Anche se la sua pelle... Sì. Non è normale. E di nuovo lo è. È come quella della metropolitana dei neri. È una similpelle. Ma non è similpelle. È più adatta a ricoprire un divano. La smettaci. Ma non accetto che mi si dia del divanofobo. Ma cos'è? Il divanofobo non esiste. Oggi si può ironizzare sul Papa. Sì. Ma non si può fare una barzelletta sui Maggioglio. Ma perché inutile... Al contrario, però, loro possono scherzare su di noi. Sì. Non affetti da fallofilia. 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 Cos'è? Fallofilia. Dallo Zianichelli. Filos. Filos. Simpatia. Simpatia per il batacchio. Batacchio. Batacchio dallo Zingarelli. Sì. Elemento percussore all'interno della campana. Sì. Campana. Dalla Trecani. Strumento sonoro di bronzo dall'imboccatura larga come il deretano di un gay. No, la Trecani non dice quello. Ma vede, questo mi sembra un discorso normale. No. Non lo è. Non accetto che mi si dia di una persona con una patologia psichiatrica. No, va bene. Io sono normale. Lei è normale. Va bene, va bene, va bene. Se non fa freddo. Se non fa freddo. Abbiamo finito? Sì, 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 per oggi direi di sì. Guardi, se vuole prendere queste. Sì. Eccole qua. Ecco. Sono aumentate. Sì, il dosaggio è aumentato. Siamo arrivati a quattro. Eh sì, forse è il caso. Quattro oggi per me è normale. Sì, sì. Oggi è stato il deretano come la campana, vero? Non solo, non solo. Comunque noi ci vediamo venerdì prossimo alla stessa ora. Alla stessa ora. Questo è normale. Assolutamente sì.